Questa è adeguamente ora di levarlo Fabrizio, Maurizio. Partiti! In vantaggio sbadiglio davanti a Electric Poppy con all'interno Bridge Hortype a seguire Sunrise, Spirit e Sebi Fly. Dopo 200 metri di corsa posizioni invariate con sbadiglio in vantaggio nei confronti di Electric Poppy. Bridge Hortype, Sunrise, Spirit e Sebi Fly. All'inizio della curva prosegue in vantaggio sbadiglio davanti ad Electric Poppy, Bridge Hortype, Sunrise, Spirit e Sebi Fly. Poco prima dell'ingresso di tour è sempre in vantaggio sbadiglio davanti a Electric Poppy, Bridge Hortype e Sunrise, Spirit e Sebi Fly. E' sempre in vantaggio sbadiglio davanti a Electric Poppy, Sunrise, Spirit, Bridge Hortype e Perlini interne e Sebi Fly. E' in vantaggio sbadiglio attaccato all'esterno da Electric Poppy a centropista Sebi Fly. E' sempre in vantaggio sbadiglio passa Sebi Fly davanti a sbadiglio. Torna in vantaggio sbadiglio davanti a Sebi Fly ed Electric Poppy. Torna in vantaggio sbadiglio davanti a Electric Poppy. Torna in vantaggio sbadiglio davanti a Electric Poppy.